Lo tiro fuori per la seconda volta. Questo strumento è molto simile all'alpan, anch'esso è fatto di ferro, si chiama steel drum. Come vedete ci sono le linguette anche qui, che se vengono toccate danno una nota piuttosto che un'altra. Ho preso una scala musicale molto simile a quella che era dell'alpan e adesso lo faccio sentire. Alcune volte unisco anche la voce oltre al suono. Si può suonare o con i battenti oppure con le mani, solo che a me personalmente piace di più suonare con i battenti. La voce oltre al suono La voce oltre al suono La voce oltre al suono La voce oltre al suono